Suonerò musiche di Bach, Chopin e Liszt, in particolare farò dei pezzi bellissimi tipo la seconda sonata di Chopin che amo e dopo una lettura di Dante e di Liszt che sono dei capolavori del repertorio pianistico quindi spero che piacciano al pubblico. Sei giovanissima, una passione che ha forse delle radici ancora più profonde, da dove nasce? In realtà i miei genitori non fanno per niente pianisti, non c'entrano proprio niente con la musica. Mio fratello suonava pianoforte e dato che io lo copiavo in tutto perché era tipo il mio mito da piccola, anche ora ovviamente, allora ho iniziato anche io a suonare quando avevo 5-6 anni. Adesso da qui parte un percorso, anzi questa è una tappa del tuo percorso, che dove arriva? Quali sono i tuoi progetti futuri? Ma diciamo che il mio sogno sarebbe diventare una concertista, quindi fare concerti per il mondo però anche insegnare magari in un'accademia prestigiosa e quindi adesso per prepararmi a questo sto facendo molti concerti tipo adesso ho fatto un concerto a Livorno, domenica ne ho una a Casal Mufferrato, poi parto per la Spagna quindi insomma una vita dura però si spera di raggiungere l'obiettivo. Chi questa sera ti verrà a vedere? Cosa dovrà aspettarsi? Ma diciamo che dovrà aspettarsi di concentrarsi un pochino perché nonostante siano pezzi molto belli e Chopin e Liszt siano anche autori abbastanza orecchiabili, sono abbastanza lunghi quindi richiedono una concentrazione leggermente alta, però non se ne pentiranno sicuramente. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!